benvenuti a tutti scusate se ci abbiamo messo un pochino a farvi entrare perché siete veramente tanti. Intanto mi presento e sono Monica De Lucchi, sono presidente del Centro Studi La Ruota e questo è il nostro primo incontro, il primo di una serie che andremo a realizzare nell'ambito del progetto Obiettivo Salute. È un progetto di cui il Centro Studi La Ruota è associazione capofila insieme agli altri partner che sono Oltre l'Acquisto, Sguardo al Futuro e Clown VIP Lago di Seo. L'altro partner che ci hanno dato una mano, sono l'associazione Pensiero di Lecco e l'istituto compresivo Giulio Bevilacqua di Cazzago San Martino. Questo progetto ha come obiettivo appunto la salute, cioè la diffusione della cultura della salute e della prevenzione come intervento concreto e quotidiano. Questo intervento vuole andare a individuare, a modificare quelli che sono chiamati i fattori di rischio, ma noi preferiamo parlare più che di rischio di malattia, di promozione della salute, perché pensare in positivo sempre, ma soprattutto in periodi come quello che stiamo attraversando in questo momento, è già di per sé un comportamento che ci fa bene. Il progetto sarebbe dovuto partire già un paio di mesi fa, ma la situazione è contingente di restrizioni e tutto quanto non ce l'ha permesso. Inoltre, i nostri progetti di effettuare incontri per la popolazione, divulgativi su alimentazione e altri argomenti, sono in cantiere da tanto tempo e per questo saluto la nostra consulente commercialista Cristina, che ci spinge da anni e finalmente dopo otto anni siamo qua e la saluto soprattutto perché è stata la nostra prima iscritta alla giornata. Partiamo quindi solo ora, con questo primo incontro in remoto, il primo spero di molti altri. Per finire poi, se tutto andrà bene da programma, verso agosto, diciamo tra luglio e agosto, con un ultimo incontro in presenza al Parco della Trucca a Bergamo, proprio perché abbiamo scelto Bergamo perché la nostra associazione è stata partner della ricostruzione del Parco della Trucca e al di là di qualsiasi polemica, Bergamo in questo periodo è stata una città veramente colpita da tutto ciò che è successo. Il nostro progetto, per spiegarvi cosa andiamo a fare, si sviluppa su tre grandi ambiti in cui possiamo agire per stare bene. Quello che introduciamo, cioè il cibo, l'acqua, gli integratori e come ce lo procuriamo quando parliamo di acquisto e consumo consapevole. Come e quanto ci muoviamo, per cui tutto ciò che riguarda l'attività sportiva, l'attività fisica in generale e le tecniche corporee, tutte le terapie manuali dall'osteopatia allo shatsu. E non ultimo, come viviamo la nostra emotività e lo stress. E qui faremo incontri con l'aiuto di psicologi, di esperti di mindfulness, della respirazione e della meditazione. Ma non solo, c'è anche tutta una sezione Nutriamoci di Cultura, di cui vi parleremo dopo. Oggi quindi iniziamo dall'alimentazione. Poi il 27, cioè sabato pomeriggio, ci sarà un altro incontro, questa volta in presenza, ma anche in remoto, sul cammino, di cui vi parlerà poi Alessandra. Il 16 dicembre faremo una seconda edizione di questo incontro, perché siete stati così tanti che abbiamo dovuto fare due serate, chiedere a Laura un'altra data disponibile. E poi parleremo di yoga, di integrazione consapevole e così via, con incontri sia su Zoom che in presenza. Le conferenze, come vedete, verranno registrate, così poi chi non riuscirà a collegarsi in diretta potrà poi rivederle sul nostro sito, dove pubblicheremo anche altre conferenze non trasmesse in diretta, ma già avvenute che abbiamo registrato sui vari argomenti di cui abbiamo parlato sinora. Il progetto, è doveroso dire, viene realizzato grazie al contributo di Regione Lombardia e grazie ai nostri sponsor, primo fra tutti Cemon, che ci accompagna, ci sostiene da tanti anni, il Laboratorio Sudini e Acquaplose. Abbiamo anche il patrocinio di comuni di Cazzago San Martino, della sua unità pastorale, di Torre Boldone e di Borgo Satollo. Tutte le iniziative di Obiettivo Salute quindi sono gratuite, sia in remoto che in presenza, sono offerte alla popolazione. In cambio, vi chiediamo però una cosa per noi importantissima, cioè di aiutarci a crescere. Troverete nella vostra casella di posta due questionari, due questionari molto semplici, uno iniziale generico e uno di valutazione degli incontri. Sono solo poche domande, bastano veramente pochi clic, poche parole, qualche minuto, ma per noi sono veramente molto importanti perché sarà anche su questo che si baseranno per valutare la riuscita di questo progetto e che appunto per definizione vede come protagonisti non tanto noi quanto voi utenti. Se poi vi è piaciuto quello che avete sentito stasera, quello che sentirete poi nelle prossime occasioni di incontro, diffondete la notizia che esiste questo progetto con parenti, con amici, conoscenti e contando che c'è posto per tutti. Lascio quindi adesso la parola ad Alessandra Torquato, che è cara amica e presidente dell'Associazione Oltre l'Acquisto. Buonasera a tutti, io sono appunto Alessandra Torquato, sono presidente dell'Associazione Oltre l'Acquisto che ha sede a Mortara in provincia di Pavia. Eh noi siamo un gruppo di cittadini che hanno sentito l'esigenza insomma di occuparsi eh della sostenibilità ambientale e sociale e e quindi ci siamo insomma aggregati per per cercare di portare avanti queste queste istanze. Eh i nostri due filoni sono appunto un gruppo d'acquisto, un gruppo d'acquisto solidale e eh un'altra frangia che si occupa eh della diciamo riqualificazione di tenere pulito ma anche la promozione eh della via francigena che passa eh per per i nostri territori. Ed è proprio questo gruppo che porterà che ha portato avanti e si occuperà eh di di gestire l'evento eh del ventisette. Eh si tratta appunto di un evento in cui cercheremo attraverso i relatori che sono eh tre medici, uno psicologo, un pediatra ed un medico di medicina generale eh di mh raccontare quali sono i tanti benefici che un'attività semplice come come il camminare eh può apportare nella nella nostra salute di tutti i giorni. Eh questo per quanto riguarda la nostra associazione. Vi presento brevemente anche le altre associazioni che fanno parte della cordata eh sono Sguardo al Futuro che è un'associazione che opera soprattutto nei comuni di Ghedi e di Castenedolo eh ma in realtà organizza iniziative in tutta la provincia di Brescia. Eh loro si occupano anche loro di ambiente, di sport eh di arte e del sociale. Diciamo che eh il loro punto di forza è proprio creare aggregazione eh creare della socialità. Organizzano quindi gli eventi come tornei sportivi, mostre fotografiche, serate sui vari temi di disponibilità ambientale ma anche di salute e nutrizione. Eh l'altra associazione, la quarta quindi della della cordata è il clown VIP Lago di Zeo. Eh loro fanno parte della della federazione presente su tutto il territorio nazionale che è VIP Italia. Sono circa cinquemila clown e immagino che tutti voi viate già sentito parlare di di questa iniziativa eh loro dedicano il loro tempo a portare un un sorriso a chi magari sta passando un momento di difficoltà eh ma fanno anche della testimonianza all'interno delle scuole, degli asili e delle strutture eh in cui sono presenti disabili. Eh un'altra associazione che ci sostiene che è partner di questo progetto è l'associazione Pensiero Onlus. Eh anche loro si impegnano ad approfondire e divulgare un percorsi in ambito salute, benessere, equilibrio, cura del corpo non solo per l'uomo ma anche per per gli animali e diciamo per eh nella loro integrazione all'interno dell'ambiente. Eh queste sono le realtà insomma insieme a alle ai comuni e a chi patrocina l'iniziativa eh che ha già presentato Monica. Eh tutte queste queste realtà si sono impegnate a creare un dei contenuti quindi il sito che noi eh che noi abbiamo realizzato che il sito obiettivo salute e la pagina Facebook che si chiama anche le obiettivo salute eh contengono e man mano saranno sempre più integrati diversi contenuti che eh ci sembrano insomma utili alla popolazione per poter avere un approccio diverso eh alla alla propria salute che parta eh da se stessi diciamo ehm quello che chiediamo a voi è di condividere quello che noi abbiamo costruito e stiamo costruendo e il lavoro non è ancora concluso infatti c'è una sezione che ancora eh deve essere aperta che è quella che accennava Monica eh che si chiamerà nutriamoci di cultura eh in questo in questo spazio eh si cercherà di approfondire di affrontare approfondire eh il tema della cultura sotto i vari aspetti quindi letteratura, cinema, teatro e come questi aspetti possano eh incidere sul benessere psicofisico della persona perché non siamo solo ciò di cui ci nutriamo eh fisicamente mangiando ma anche ciò di cui nutriamo la nostra mente.